E appunto continuando poi su questo solco diciamo dell'analisi concreta di quello che sono i populismi, appunto abbiamo visto cosa hanno rappresentato nell'America Latina dell'inizio del nuovo millennio, del 2000, e abbiamo visto anche che tipo di paradigma stavano sfidando e di conseguenza abbiamo visto anche le differenze, ma anche le affinità con l'Inghilterra della Brexit. Ora io in realtà volevo un attimo proporre uno scambio diciamo di risposte tra Mario Pezzella e Francesco Biagi, chiedendo appunto a Francesco se a partire da questo tipo di inquadramento che abbiamo fatto del populismo latinoamericano, quindi vedendo che era un populismo che è riuscito anche sfruttando la lotta anticoloniale, ad allargare i diritti, a promuovere inclusione sociale, ad estendere la stessa pratica della democrazia almeno ai suoi inizi, come questo quadro diciamo non possa essere riprodotto per esempio in Europa, o comunque sia all'interno dei neopopulismi europei. effettivamente lo dicevamo anche prima a proposito della vaghezza e adesso a proposito della Brexit, in Europa quello che si sta dando non è tanto un populismo che è espansivo, ma è un populismo che appunto pone delle barriere interne, è un populismo che in questo momento si sta rivolgendo maggiormente ai ceti medi, che sono sì impoveriti economicamente, ma soprattutto hanno perso dei sistemi di riferimento, quindi stiamo parlando di quei ceti medi che non possono più aspirare alla mobilità sociale, all'arricchimento, a quella promessa del progresso infinito fondamentalmente. Io ho un'immagine stampata nella mente quando sono state fatte le barricate contro l'arrivo dei migranti e dei profughi, proprio qua vicino, questo evento super mediatizzato eccetera, eccetera, ecco, quelle lì non erano persone appartenenti alla classe tradizionalmente detta operaia, non erano i poveri che stavano cercando con delle forme populistiche o appoggiandosi al populismo della Lega Nord di avere un'inclusione sociale, erano persone appartenenti al ceto medio che semplicemente stavano dicendo io non voglio estendere il mio privilegio. Quindi appunto questa sorta di volontà di non perdere il privilegio, questo richiamo anche al glorioso passato che hanno i ceti medi perché prima si poteva aspirare alla mobilità sociale permanente eccetera eccetera, come effettivamente, se ci puoi spiegare come effettivamente cambiano il quadro tutti questi elementi rispetto all'America Latina? È chiaro che penso che i populismi di stampo conservatore, cosiddetti di destra, hanno un facile terreno rispetto a una fase in cui accanto alla crisi della democrazia rappresentativa e a quella disintermediazione di cui ha parlato Manuel, c'è anche la crisi economica, ci sono bisogni sociali, ci sono diritti che vengono erosi costantemente e di fronte appunto all'inaspirsi della morsa della crisi c'è una reazione per cui i penultimi, la classe media impoverita difende quel poco che ha contro gli ultimi che arrivano, che possono essere appunto, che molto spesso sono i migranti e a partire da questo scenario ecco, credo che non ha senso tentare di porsi il problema del popolo, di come organizzare il popolo inseguendo appunto il metodo del populismo e il metodo del populismo di destra. Mi spiego, la clau utilizza molto Gramsci, utilizza molto il concetto di blocco sociale e di egemonia e trasla il conflitto reale nella società invece in una situazione di conflitto tutto linguistico, spettacolare, discorsivo. Quando lui parla di saldare varie equivalenze e creare appunto una saldatura che si innervi in una, che diventa poi generale universale, ci sta dicendo che i conflitti più o meno sono tutti uguali, anzi non sono nemmeno più conflitti, sono vertenze e la saggezza del populista è, o del movimento populista è quella di appunto unirli, saldarli, crearne una universale e creare una lotta fra due blocchi sociali a partire da questo. E credo sia una maniera postmoderna di vedere il conflitto perché se anche la clau propone un'idea di populismo di sinistra e si autodefinisce nel solco del marxismo, lui stesso si definisce un post marxista e io aggiungerei che è anche un postmoderno nella misura in cui accetta il terreno della società dello spettacolo perché non vi può essere populismo senza appunto la tv, i giornali, senza questa creazione di un discorso politico che ti permette certamente di diventare mainstream, anche di prendere il 20% alle elezioni, però alla lunga si concentra su un agonismo politico che lascia da parte la realtà, si stacca dalla realtà e i conflitti e le equivalenze che assume sono quelle che più convengono al discorso populista, non sono poi quelle reali che vivono nella società. E qui appunto credo che molti, molti anche studiosi, teorici, che poi magari fanno anche politica e fanno i militanti, abbiano preso troppo per un Gramsci vero e autentico, il Gramsci di Laclau. Io personalmente preferisco mettere in evidenza il Gramsci di cui parla David Harvey quando dice che nel periodo del Bienio Rosso e quando Gramsci scriveva nell'Ordine Nuovo ha scritto un articoletto che si chiama Democrazia Operaia dove Gramsci invita il partito e l'organizzazione comunista ad aprirsi ai quartieri, ad aprirsi ai consigli di fabbrica, ad aprirsi a una democrazia appunto che assume una forma consigliare. E qui secondo me, a partire anche dal Gramsci che mette in luce David Harvey in libri come Città ribelli ma anche in diverse interviste, possiamo provare a pensare a nuove istituzioni e a pensare all'uscita dal momento populista, dalla crisi della democrazia non riproponendo una fede nel dispositivo sovrano perché di fatto il populismo ha un forte richiamo allo Stato, alla patria e è vero, magari in parte lo Stato può attenuare la crisi con alcune forme di welfare dopodiché però abbiamo visto, credo benissimo, che fine ha fatto la Grecia tentando la via elettorale e tentando di anche provare a utilizzare il dispositivo statale da un punto di vista di sinistra. Credo che qui ci sia da aprire un grosso dibattito sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista delle pratiche sia nelle università, anche nei movimenti, su come pensiamo delle nuove istituzioni su come pensiamo a creare una nuova forma di democrazia insorgente come direbbe Miguel Abensur che però si pone il problema di risolvere le aporie del populismo e le aporie anche della sovranità nazionale perché appunto di fronte a poteri economici così forti e a poteri sovranazionali così forti ritornare il dispositivo statale credo sia un ripiegamento su strumenti vecchi che ormai appunto la fase non ci concede più.